Baby Blues è il titolo provvisorio del film che dovrei fare quest'autunno, tratta appunto del tema del Baby Blues e cioè della depressione post Natale che molte donne vivono in maniera consapevole o più o meno consapevole, quindi nasce così da un'osservazione della realtà come sempre e dal desiderio di parlare di un argomento di cui non si parla molto, che è un argomento tabù in qualche modo. Sì, in qualche modo sì, nel senso che chiaramente il fatto di parlare della maternità non in modo così lineare, ma se mai appunto parlando in questo film della maternità nei suoi aspetti più oscuri, nei suoi aspetti più conflittuali è sicuramente indice di questa mia ricerca che indaga l'universo femminile e che vuole andare a vedere laddove appunto non si vive in maniera pienamente soddisfacente un ruolo o sì, un modello che in qualche modo viene assegnato dalla società. Il film sarà un film di finzione, nel senso che parte comunque da una sceneggiatura scritta e però è una forma di racconto, di messa in scena che utilizzerà diversi linguaggi e quindi con una forte aderenza al cinema della realtà e anche con una commissione di appunto altri linguaggi, filmati di repertorio, altro, però diciamo è un film, è una storia che viene raccontata tramite una messa in scena che coinvolge degli attori che recitano delle parti. C'è stato questo contatto con Charlotte Remplica a cui ho proposto la parte e insomma lei è interessata, ora vedremo se questa cosa si realizzerà e quindi anche per me sicuramente sarà una nuova esperienza quella di lavorare con gli attori e soprattutto con appunto un'attrice di questo livello, quindi da un lato una grande aspettativa, dall'altro appunto non lo so, mi affido anche molto al suo talento, alla sua professionalità. Grazie a tutti!